Sicuramente i prossimi traguardi di monumenti aperti per quanto riguarda il convulgimento del mondo della scuola riguardano la scalabilità del progetto quindi la possibilità di realizzare monumenti aperti in nuovi comuni, nuove regioni d'Italia e perché no anche in Europa magari creando uno scambio tra gli studenti quindi oggi i volontari delle scuole di monumenti aperti sono 20.000 ci piacerebbe che fossero e vengono da sei regioni ci piacerebbe che fossero 40.000 venissero da 12 regioni questo diciamo è un obiettivo che monumenti aperti potrà anche raggiungere se tutto va bene